Dal ruolo della spietata donna Imma Savastano di Gomorra alla dolcissima Ninella di Io che amo solo te, Maria Pia Calzone è nel suo sagno per presentare il suo nuovo film. C'è stata una coincidenza perché io volevo portare i miei genitori al cinema, questi sono giorni di promozione per noi e siccome mia madre si è rotta il braccio non sono potuta venire prima e ho detto alla produttrice perdonami io devo andare a vedere mia madre veramente cosa si è fatta e li porto anche al cinema e lei mi ha detto ma quel cinema è mio e allora posso organizzare ho detto se vuoi io faccio una presentazione lì e quindi abbiamo unito sempre perché si lavora sempre abbiamo unito le cose. È la famiglia il gancio per dedicare una serata al pubblico del sagno e in questa terra infatti l'attrice originaria di Reino conserva ricordi bellissimi. I miei genitori sono di Reino, io non ci ho mai abitato, io vivevo a Napoli, poi loro sono tornati a vivere a Reino quando ho smesso di lavorare. Per me Reino è il paese dei miei nonni dove io trascorrevo le mie estati quindi ho i miei ricordi di infanzia, è il posto del cuore proprio perché era il posto dei miei nonni, io adoravo i miei nonni, ci venivo in vacanza, ci venivo il sabato e la domenica. Dei suoi ruoli più recenti invece ci racconta Sono due donne molto complesse, una sta in un mondo particolare però anche quella dal mio punto di vista aveva tante dolcezze. Cioè la preparazione è la stessa, solo che la ricerca ovviamente magari è più profonda perché io posso capire, posso conoscere meglio l'animo o anche il vissuto di una sarta di Polignano mentre non conoscevo niente di una camorrista quindi è diversa la ricerca. Lì ho dovuto fare più ricerca, ho dovuto studiare di più. Ma interpretare Ninella nel film Io che amo solo te l'hai piaciuto davvero molto? Eh certo, fare la commedia romantica insomma non a 30 anni è una cosa divertentissima. Credo che Bianchini abbia detto che niente succede per caso, niente succede per caso, le vite vanno forse come devono andare ma se ci sono delle cose forti quelle poi ritornano. L'ultimo pensiero è per gli alluvionati. Io volentieri se ci sono iniziative volte alla sensibilizzazione metto a disposizione i miei social network, metto a disposizione la mia faccia e lo faccio.